Sabato 26 festeggiamo le donatrici e i donatori per una 57esima festa sociale della nostra Alesi Comunale. Devo dire che quest'anno abbiamo dei numeri straordinari, abbiamo avuto un 7% in più di donazioni e recuperiamo tantissimo anche nei nuovi donatori. La cosa significativa sta che consolidiamo quello che è l'aumento delle donazioni da parte delle ragazze e delle donne rispetto agli uomini. Questo è un dato che ci incoraggia moltissimo perché l'abbiamo fatta dall'iniziativa quest'anno rivolta a un mondo femminile che credo sia anche un aspetto molto importante. Sabato festeggiamo ed è una festa della città, la 57esima festa sociale di Alesi, un'occasione per la nostra città di dare rilievo e valore a quello che è appunto il senso del dono del sangue e del plasma. Tanti sono volontari che si attivano in questo ambito e grazie a volontari e volontarie per i numeri che sono stati anche esplicitati oggi in conferenza stampa. Sono tante le donazioni che contraddistinguono il nostro territorio e quindi un ringraziamento particolare a Davis, al suo presidente Sergio Martini, all'intera dirigenza e a tutti i cittadini che si sono avvicinati a questo grande gesto di dono. La festa naturalmente comincia al mattino con il ritrovo dei nostri donatori con la sfilata dei Labari sul corso Giovecca e poi andremo alle 10 alla messa nella Basilica di San Paolo, nella Chiesa di San Paolo, ufficiata dal Vescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perro. Finita la messa alle 11 andremo, faremo anche i discorsi ufficiali, i presidenti e le autorità li faremo qui nel ex dettatorio del comune qua vicino al comune. Poi al pomeriggio è quella sicuramente la giornata conclusiva, è quella clou, nel senso che andiamo a premiare i donatori e le donatrici che hanno raggiunto dalle 8 donazioni fino alle 120 donazioni per i nostri benenerichi, diciamo così. E naturalmente avremo anche degli intervezzi musicali, aprirà questo nostro incontro del pomeriggio, aprirà con le manifestazioni, che sono i giovani che fanno dei balletti, altri che fanno altre iniziative, cioè facciamo degli intervezzi che sono anche tra ogni donazione, che per noi i donatori sono molto positivi. Il mio appello è che si continui in questa strada molto fruttuosa dal punto di vista dell'Avis Comunale di Ferrara per aumentare il numero di donatori e donatrici, per aumentare le donazioni, soprattutto quelle di plasma, di cui abbiamo moltissimo bisogno. Ringrazio tutti i donatori e donatrici che hanno finora contribuito a raggiungere questi splendidi risultati e auguro a tutti una buona festa sociale.